Un giro d'affari da oltre 10.000 euro al mese è guidato da un gruppo di giovani criminali, con a capo tre ragazzi, figli di esponenti di primissimo piano della cosca d'indrangheta locale guidata da Nicolino Grande Aracri. Questo quanto emerso nel corso dell'operazione Filiorum, condotta dai carabinieri della compagnia di Crotone, che ha portato al fermo di sei persone. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini iniziate nel febbraio di quest'anno, gli affari del clan dei Rampolli dell'Andrangheta si basava sull'attività di spaccio di droga, rapine e atti intimidatori a danno degli imprenditori locali. A far scattare le indagini dei carabinieri, l'incendio ha piccato ad un portone di un noto imprenditore locale. Nel giro di 24 ore, infatti, i militari avevano notato due bidoni di benzina a bordo dell'auto dei tre giovani. Il trio poi si sarebbe reso protagonista di una violenta rapina eseguita nel ristorante Oasi di Rocca Bernarda, quando si fecero consegnare dei proprietari 2.500 euro. In gente, infine, l'attività di spaccio messa in piedi a Cutro, con centinaia di dosi vendute al mese. In una circostanza, i giovani si sarebbero addirittura recati a Gioia Tauro per rifornirsi di droga, accompagnati da un minore per agevolare l'occultamento della droga in caso di controlli delle forze dell'ordine.